Tu pensi che si sente poi l'umore che ci sta? Buonasera, addolorata. Questa è la famosa rappresentazione della madonna. Che è la madonna. Tu ti chiami addolorata e hai fatto per molti anni... Dal 79. Questo carro. Che faccio questo carro. L'hai fatto tu personalmente? Sì, sempre io lo faccio. Questo carro, di che cosa si caratterizza rispetto agli altri? Ma questo qua è un carro che rappresenta la festa dell'uva. All'inizio la festa dell'uva era simboleggiata solo con questo carro qua. Per un raccorto buono e per una buona festeggia. Ma è vero che nel 1978, un anno prima che nascesse la sfilata, fu fatta la rappresentazione. Cioè, questo è il primo, nato nel 78. Prima non era rappresentato proprio dalla statua. Facevano... Diciamo... Come una piramide, una piramide che ci stava tutta qua sopra. E per loro quello rappresentava la madonna. Cioè nel 78 sulla piramide? Era solo una piramide. Se vai a vedere delle foto, questa madonna qua è entrata, cioè come statua, è entrata quando ho iniziato a modificarla. A modificarla io, anno verano, l'ho modificata. Quindi nel 78 c'era solo la piramide? Sì, erano delle piramide. Infatti ci stanno delle foto che riportano delle piramidi di uva. Ma la facessi tu? No, io una volta ho fatto la piramide e giusto in mezzo ho messo la foto della madonna, che era un'immaginetta della madonna. Poi un'altra volta ho fatto un dipinto su Trilla. Se ti ricordi chi è stato il primo a fare la piramide? No, chi ha fatto la prima piramide non lo so. Comunque quando l'hanno fatta fu fatta con la tua famiglia? Sì, noi il 79 ha iniziato mio padre. Poi lui con mia madre, loro sono venuti a mancare e sto continuando io. Ok, questa è una cosa bella, rappresentare la madonna, è una cosa che appartiene alla tradizione di solo paga, vero? Sì. Quindi questa sera viene conferito un premio, che è il premio Minauro. È un premio, è un desiderio. Che viene dato l'avvocato Minauro, perché? Perché l'avvocato Minauro è stata una persona che ha fondato la Festa dell'Uva e lui è stato il presidente della Prologo per molti anni. E sinceramente quando ci stava l'avvocato Minauro che organizzava la Festa dell'Uva, non lo so... Quando la tua famiglia faceva questi primi carri c'era anche lui? Sì. Con voi? Sì. Quindi è anche un amico di famiglia. Sì. Senti, un'altra cosa l'ho chiesta a Dele Donofrio, credo che è tua amica pure, no? Anche lei se ne intende di questi aspetti coreografici relativi alla simbologia della Festa dell'Uva. La madonna è un qualcosa di religioso, non è come i tanti simboli che possono essere pure semplici, a volte anche banali. Rappresentare la madonna è una cosa seria, è vero? Sì, io la vedo molto seria, è una cosa molto seria. Bene, quando si facevano questi carri, queste prime rappresentazioni, c'era anche il parroco? C'era il? Il parroco. Non l'ho mai visto. Il parroco non è mai venuto. Vedi, se tu noti, la madonna non tiene la corona. E che vuol dire? Perché i preti non me l'hanno voluta prestare. Ok, sei stata molto chiara. Quindi tu ci credi nell'origine religiosa della... Sì, io sì. Ci credo e la porto avanti finché ce la faccio. E ci credi perché? Perché sei religiosa tu? Io sono religiosa, però io sono cresciuta con questa immagine anno dopo anno. Forse sarà pure quello, però io ci credo. Altrimenti non sarà... Però il prede non ci veniva alla... No, ma io come non vedo i preti, non vedo neanche i signori che organizzano la festa dell'uva. Io quando mi faccio il carro, da me non viene mai nessuno a chiedere se ho bisogno di qualcosa. Ecco, quindi... Cosa, cosa al contrario quando ci stava l'avvocato Minauro. Ti vedevi girare nelle botteghe e ti chiedevano se avevi bisogno di una mano o che ti serviva. Ti davano pure un consiglio, invece adesso no. Ho capito, trovassi la partecipazione. Beh, però ecco, concludendo, tra origine e carattere religioso della sfilata, tu credi in tutte e due le cose. Anche oggi c'è il carattere religioso. Sì, sì, sì. E quindi, in conclusione, credo che diresti pure che non deve finire mai. No, assolutamente. Almeno io non mi fermo. Se ci sta qualcuno che mi vuole mettere il bastone tra i piedi, io comunque vado avanti. Grazie, lei sarà molto gentile. Grazie a te. Vuoi aggiungere qualcosa? Io voglio solo aggiungere una cosa in particolare che ultimamente sto sentendo in giro, non solo se è vero, che vogliono far diventare questo carro il carro di un ente e che non può essere il carro di una persona o di una famiglia. Allora io dico, siccome è stato sempre un carro della mia famiglia, qualcuno non lo ha valutato, un buon carro, oggi che ci rendiamo conto che si stanno tirando fuori tutte le cose antiche, lo vogliono far diventare un carro dell'ente. E' impossibile perché io non lo lascio, perché il carro della famiglia tazza è messo a carro nostro. Molto chiaro, la tua idea è che la tradizione va conservata così come è. Grazie, è molto gentile e anche brava. Grazie.